ciao a tutti benvenuti in questo video iniziamo un pochino dicendo qualcosa sulle capsule cosa vedremo insieme che cosa sono le capsule parleremo appunto di questa forma farmaceutica analizzeremo vantaggi e svantaggi diremo due parole su come sono fatte e poi tipi e dimensioni delle capsule rigide sulle quali proprio andremo a vedere praticamente tutta la serie delle dimensioni delle capsule rigide per uso umano e poi qualche esempio di formulazione di cui poi faremo anche una prova pratica andiamo a vedere un attimo la teoria ma brevemente questi sono solo degli accenni poi ovviamente per approfondire utilizzate il vostro testo ma io quello su cui voglio fare riferimento è la definizione della farmacopea ufficiale anzitutto questa è la nostra farmacopea ufficiale di cui parleremo ampiamente vedremo anche un video proprio sulla farmacopea e quella attualmente è in vigore e del 2008 e della dodicesima edizione se andiamo nella pagina delle forme farmaceutiche troviamo anche le capsule e infatti a pagina 886 della farmacopea ci offre questa definizione le capsule sono preparazioni solide con involucri duri o molli di varie forme e capacità contenenti usualmente una dose unica di principio attivo sono destinate alla somministrazione orale proprio su questa definizione si basa la nostra lezione ecco vedete questa è proprio la monografia riguardo le capsule e in questa parte possiamo distinguere varie categorie di capsule capsule rigide molli a rilascio modificato gastro resistenti e i cialdini noi ci focalizzeremo soprattutto sulle capsule rigide e un pochino faremo accenno anche alle capsule molli come sono fatte le capsule rigide come sono fatte le capsule molli le capsule rigide hanno degli involucri costituiti da due sezioni cilindriche che si incastrano le una sulle altre vedremo esattamente come sono fatte e ovviamente sono arrotondate e poi vengono chiuse le capsule molli invece hanno degli involucri un pochino più spessi e possono avere delle forme diverse come vi dicevo analizziamo vantaggi e svantaggi delle capsule i vantaggi sicuramente le capsule hanno diversi vantaggi sono facili da formulare sono facili da preparare e si possono ottenere anche delle accuratezze nei vari dosaggi nelle varie somministrazioni poi c'è ovviamente il vantaggio che essendo le polveri o anche i liquidi perché esistono delle capsule che contengono dei liquidi all'interno hanno la possibilità quindi di nascondere eventuali sapori o degli odori sgradevoli sono ben accettate dalla maggior parte dei pazienti hanno una buona accettabilità dalla maggior parte dei soggetti e poi possono essere usate in vario modo vedete poliedricità di uso cioè noi possiamo riempire le capsule con delle polveri con dei granulati degli oli delle paste insomma all'interno delle capsule ci si può veramente mettere di tutto infatti vedete sono un porta medicina andiamo a vedere gli svantaggi la capsula può sembrare di plastica in effetti l'involucro duro ha un aspetto plasticoso se voi andate a vederla o se avete magari avuto modo di toccarne qualcuna sicuramente non è plastica ok infatti noi parleremo che questo polimero è un polimero può essere un polimero vegetale può essere la gelatina non è possibile suddividere le capsule in dosi certo perché di solito le capsule tendono a contenere un'unica somministrazione ma alcune volte magari possono essere suddivise le somministrazioni in più capsule non sono utilizzabili quando bisogna somministrare grandi quantità di polvere vedete abbiamo per esempio che le capsule possono contenere 500 600 milligrammi contro invece una compressa che ne può contenere 1200 1500 milligrammi e per chi ha difficoltà di deglutizione può essere uno un vero svantaggio ecco ci sono dei vantaggi rispetto alle compresse uno dei vantaggi è la velocità nella disgregazione dell'involucro esterno poi possono essere facilmente allestite e l'attrezzatura che richiedono per l'allestimento è veramente poco costosa e infatti la maggior parte dei laboratori ha un'opercolatrice ha una incapsulatrice tra informazioni ecco la flessibilità di riempimento ma di questo ne abbiamo già parlato andiamo a vedere un attimo come sono fatte queste capsule abbiamo letto la definizione della farmacopea e abbiamo detto che praticamente le capsule possono avere un involucro rigido innanzitutto sono praticamente delle capsule di gelatina ma poi vedremo che ci sono anche delle capsule con polimeri vegetali che sono dotate di due scanalature questo è il sistema coni snap praticamente quando noi prendiamo una capsula nella confezione che ci viene venduta con tutte le capsule sfuse le capsule sono semi chiuse ecco qui vi faccio vedere la l'animazione dunque le capsule sono semi chiuse ok quando poi noi le inseriamo all'interno della nostra percolatrice verranno aperte e quindi si separerà l'involucro superiore dall'involucro inferiore successivamente poi riempiremo le capsule le andremo a richiudere e poi faremo la chiusura finale con il doppio scatto dove vedete la testa praticamente inserita in tutte e due le scanalature come abbiamo detto precedentemente nelle capsule vi è una poliedricità dell'uso infatti noi possiamo riempire le capsule con polveri classicamente possiamo riempire le capsule con compresse con dei granulati con altre capsule o anche addirittura con delle paste o degli oli quindi delle sostanze anche liquide o semisolide dicevamo ci sono dei polimeri alternativi alla gelatina animale sì per il problema della mucca pazza che c'è stato circa un 25 anni fa si sono sviluppati polimeri alternativi al gelatina animale ma non solo per questo motivo anche per le persone vegetariane o vegane infatti vedete per esempio c'è il veggie caps sono praticamente fatte di cellulosa e anche queste hanno un aspetto plasticoso però sono polimeri vegetali poi ci sono per esempio le np caps che sono fatte da pullulano e le leak caps queste sono delle capsule che possono contenere dei liquidi sono praticamente fatte con idrossipropilmetilcellulosa e possono contenere appunto dei liquidi o dei semi solidi andiamo a vedere ora il tipo le dimensioni delle capsule rigide ci sono diversi formati per uso umano vedete andiamo dal formato 5 al formato 000 ci sono anche capsule per uso veterinario vedete addirittura questo formato riesce a contenere fino a 25 28 grammi di polvere ed è 40 volte più grande della capsula numero 0 questa capsula infatti può contenere fino a un volume di 24 ml noi avremo a disposizione tutta la serie delle dimensioni di uso umano ecco andiamo a vedere in questa tabella le dimensioni delle capsule vedete dalla numero 5 al numero 000 c'è veramente un ampio range di dimensioni vedete la capsula 5 è la più piccola ed è lunga solo 10 mm mentre invece la capsula 000 arriva quasi a 3 cm ecco di cui si parlava la difficoltà di deglutizione cioè se noi dobbiamo mettere all'interno della capsula una grande quantità di polvere o dobbiamo ricorrere a capsule più piccole e fare una doppia o tripla somministrazione oppure ovviamente diventa un limite noi per esempio andremo a preparare nella nostra esperienza di laboratorio capsule di tipo doppio zero perché è l'opercolatrice che ho ad ogni modo la doppio zero è ancora deglutibile però non per tutti le capsule possono essere in colori possono essere colorate opache insomma ce n'è di vario tipo poi vi è tutta una simbologia per la colorazione vedete per esempio questo tipo di colore più indicato per capsule che contengono principi attivi antipertensivi oppure per esempio questo tipo di colore per sedativi oppure ci sono per disinfettanti eccetera insomma questo è fatto tutto in base alle ricerche del professor luscher sui colori e chiudiamo questa piccola presentazione con un ricordo la mia prima capsula che ho fatto da farmacista abilitato è stata proprio la capsula di mirtillo nero con estratto secco al 36 per cento questa era la formulazione e ho utilizzato l'opercolatrice che vedrete poi nel video ma della misura delle capsule zero e qui invece trovate una fotografia che ho scattato nel laboratorio dove ho messo vicino tutte le capsule dalla triplo zero fino alla numero 5 per avere così un ricordo e soprattutto un riferimento riguardo le dimensioni vedete questa è la capsula 5 e questa è la capsula triplo zero finisce qui la nostra brevissima introduzione sulle capsule parleremo poi di eccipienti in un altro video per qualsiasi informazione curiosità necessità scrivetemi pure vi invito a iscrivervi al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su nuove esperienze e vi do appuntamento al prossimo video sulle capsule ciao